Il faro è il compunto sul mare che indica un luogo d'arrivo, una luce di speranza in mezzo all'infinità d'acqua. Il faro indica anche un limite, è il segnale che crea un confine tra mare e terra. Un faro, silenzioso ma imponente, è la luce a cui si aggrappa la nave sul mare in tempesta e allo stesso tempo il monito per il marinaio che non deve avvicinarsi troppo alla costa. Come vive e cosa sogna chi vive ai piedi di un faro nel 2015? Ed è diverso da come si viveva e si sognava nei decenni passati, scoprirlo è l'obiettivo del nostro viaggio.